Tutti d'accordo con Deposito Chiaro di Banca Popolare di Vicenza. Semplice, chiaro, conveniente. Scoprilo in tutte le filiali e su popolarevicenza.it Ha già confessato due volte davanti ai carabinieri e con il pubblico ministero ma oggi ha scelto di non parlare Mirko Righetto, accusato dell'omicidio della moglie. Gli investigatori scandagliano i telefoni. Un forte grido di protesta salzato ieri sera da Camisano. Almeno 600 persone hanno partecipato alla marcia in rosso contro i femminicidi. Il ritrovamento di resti umani in un maneggio di colonio monzese fa nascere il dubbio che si tratti del corpo di Francesca Benetti, ipotesi che mette in crisi. Una doppia sentenza. Dopo l'appello dei residenti che chiedono panchine nel parco dei pomari, l'assessore Balbi svela il progetto già pronto. Illuminazione, orti sociali, più di 20 aree di sosta. 30 agenti in azione a Bassano in funzione di prevenzione antiterrorismo. Nei giorni scorsi l'allerta per una vettura con la scritta Bomba Isis. Elicotteri americani potrebbero utilizzare la pista e l'aeroporto di Tiene per le loro missioni. Le prove sono state fatte nei giorni scorsi. Una perturbazione in grado di abbassare la temperatura fin verso lo zero può guastare una Pasqua ricca di iniziative di piazza e Mercatini resiste la tradizione dell'agnello. L'augurio del bescovo ai telespettatori di TVA. Lunedì pomeriggio al venti arriva la Pro Vercelli. I miei giocatori devono capire quali sono i pericoli che si corrono durante la gara. Lo dice di Servisoli che annuncia una formazione battagliera. Ben ritrovati all'appuntamento con il telegiornale provinciale in questo sabato 15 aprile. Dunque ancora l'apertura dedicata all'omicidio di Camisano con l'uomo che quest'oggi davanti al giudice ha scelto la via del silenzio. Scena muta davanti al giudice per Mirko Righetto. L'uomo che ha confessato nei giorni scorsi agli investigatori di aver ucciso la moglie Lucia Rodriguez nella sua abitazione di Camisano mentre la figlia dormiva. Questa mattina il 47enne nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Un confronto rapido quello in carcere tra il GIP Massimo Gerace e l'imprenditore che rimarrà così al San Pio X. Una scelta quella del marito della 37enne in controtendenza rispetto alle prime emissioni fatte ai carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza che lo hanno raggiunto nella sua abitazione dopo la tragedia. In caserma Righetto ha spiegato molti particolari sull'omicidio ed aver agito con un coltello dopo un raptus di rabbia nato da una discussione con la moglie che lo avrebbe minacciato di tornare in Colombia portando con sé la bambina di tre anni per non fargliela più vedere. Una confessione quella dell'uomo che lascia un quadro giudiziario sostanzialmente chiaro come ha confermato lo stesso procuratore capo di Vicenza. Dal punto di vista poi giudiziario non sembrano esserci problemi specifici perché lo stesso omicida ha allertato i carabinieri autodenunciandosi. Intanto dal punto di vista delle indagini gli inquirenti stanno ricostruendo gli istanti prima della tragedia. Al momento l'ipotesi del raptus improvvisa è quella più accreditata ma gli investigatori devono capire se l'omicidio sia stato anche pensato. Per questo sotto la lente di ingrandimento ora ci sono i cellulari della coppia e soprattutto i messaggi scambiati nella giornata di mercoledì. Ieri pomeriggio 600 persone per una marcia silenziosa a Camisano. Lullo finale in piazza per ricordare le 124 donne uccise nel corso del 2016, 5 in 5 anni nel Vicentino in prima fila. Gli amministratori. Un silenzio quasi irreale ha accompagnato la marcia silenziosa di circa 600 persone che ieri pomeriggio richiamate dalle amministrazioni locali e da associazioni come Donna Chiama Donna, l'associazione delle donne medico, hanno attraversato il paese di Camisano dopo il delitto accaduto nella notte fra mercoledì e giovedì la morte di Lucia Loosa Rodriguez. Una volta in piazza i partecipanti, tutti con un indumento rosso simbolo della lotta contro il femminicidio, hanno lanciato il loro urlo contro un fenomeno che non sembra avere fine. No, ci abitiamo! Era stata l'assessore Isabella Sala poco prima a ricordare che qualcosa si può fare. Dallo scorso 15 gennaio esiste il progetto La Valigia di Caterina, intitolato all'opera dell'avvocato Caterina Evangelisti, morta due anni fa dopo una vita dedicata alla tutela delle donne. Perché qualcosa bisogna fare per fermare una spirale di violenza sempre uguale. E la cosa assurda è che quanto ogni donna è diversa, quanto invece il ciclo della violenza maledetta è uguale e appiattisce. Cioè è pazzesca la differenza, è questo che mi sta angosciando enormemente. Serve solidarietà, serve attenzione, serve cogliere i segnali. I vicini di casa, compagni di lavoro. E quando vediamo che questo ciclo della violenza inizia, è lì che ve l'ha bloccato, che avete capito? Perché è lì che mi angoscia, che ci ricadiamo sempre. Serve infine anche in educazione una trasmissione importante di valori. Che se questa ragazza avesse sentito tutta questa vicinanza, forse avrebbe avuto il coraggio di andare via, di scappare, di lasciare tutto. Il ritrovamento di resti umani in un maneggio a Cologno-Monzese fa nascere il dubbio che si tratti del corpo di Francesca Benetti. Una ipotesi che mette in crisi ben due sentenze. Poche settimane fa si è chiuso il processo in corte d'assise d'appello a carico di Antonino Bilella, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Francesca Benetti, il cui corpo non è mai stato ritrovato. Ora il mistero si arricchisce in una puntata dopo il ritrovamento di resti umani in un maneggio di Cologno-Monzese. Qualcuno già ipotizza che si possa trattare del cadavere dell'insegnante di Valdagno. La famiglia spera tanto ovviamente di ritrovare il corpo della loro congiunta. E' difficile credere a questa versione in quanto si richiederebbe la presenza di un altro soggetto nella scena del crimine. Certo, i familiari non si rassegnano e chiederanno maggiori approfondimenti. C'è comunque un corpo da ritrovare e l'intenzione della famiglia e di questa difesa è di sollicitare continuamente la procura della Repubblica di Gorsetto per effettuare anche in questo caso eventuali verifiche e accertare eventualmente se si tratta del corpo di Cologno-Monzese. Eppure se il ritrovamento del corpo dovesse essere confermato questo non cambierebbe il contenuto della sentenza ma potrebbe aprire il sospetto alla presenza di un complice. L'imputato ha commesso il fatto e la duplice sentenza della Corte d'Assise di Firenze e Corte d'Assise di Gorsetto non lascia dubbi sulla sua responsabilità. Se mai questo aggiungerebbe un ulteriore elemento di un eventuale complice che potrebbe averlo aiutato nella fase, diciamo così, dopo l'omicidio e quindi nella fase della liberazione del corpo sostanzialmente quando si è liberato del corpo. Ieri vi abbiamo raccontato dell'appello di alcune persone che vorrebbero semplicemente delle panchine nel parco dei Pomari. Quest'oggi l'assessore spiega che per quel parco c'è un piano ben più complesso. Vediamo. Che il signor sindaco prenda a cuore questa situazione e ci faccia questo regalo di almeno un paio di banchine per la zona San Lazzaro e della zona Pomari. Grazie. Di questi giorni l'appello del signor Franco Brunello che a nome dei molti anziani residenti nel quartiere di San Lazzaro ha chiesto al sindaco Achille Variati il posizionamento di alcune panchine nel parco dei Pomari dove gli anziani durante i loro passeggiati possano trovare una sosta per riprosare. Attualmente infatti di panchine nel Pomone Verde e la zona oveste cittadina ne è rimasta una sola. Immediata risposta all'amministrazione comunale che da tempo ha comunque deciso di stanziare una somma di 50.000 euro per un progetto di qualifiazione dell'area partendo dall'allestimento di 20 nuove panchine. Effettivamente la prossima settimana dopo Pasqua partirà un cantiere che è proprio dedicato a quest'area del quartiere Pomari per renderla più vivibile. Abbiamo pensato a delle soluzioni proprio sollecitate dai residenti e quindi sicuramente panchine lungo i vialetti Elsi ma anche un miglioramento dei percorsi pedonali rendendoli appunto più strutturati e un'area cani e soprattutto l'allestimento una nuova zona di orti urbani anche a Vicenza proprio in quest'area verde alle mie spalle. Non solo gli anziani intanto ma anche gli altri residenti del quartiere chiedono più controlli per quanto riguarda il tema sicurezza. Sicuramente il fatto che le zone siano più vissute più utilizzate è già di per sé un sistema per rendere più controllata e sicura la città credo che questo sarà importante poi per altre cose se è necessario fare delle manutenzioni al verde per rendere più facile l'illuminazione sicuramente queste vanno gestite anche più facilmente e saranno prontamente messe in alto. L'ordinanza anti-bivacchi dell'amministrazione sposta il problema dei nomadi a est di Vicenza dove nascono mini-accampamenti cui è vietato avvicinarsi. Guardate cos'è successo al nostro cronista. Ma dove sono finiti i nomadi che stazionavano in via Lanza in zona Mercato Nuovo? Sono davvero spariti nel nulla dopo l'ordinanza che gli vieta di sostare in queste aree pena sanzioni e denunce penali? La risposta è semplice No, hanno semplicemente cambiato location. Ora si trovano a Vicenza Est e in particolare nelle vicinanze dell'area commerciale Palladio lungo la strada padana verso Padova. Le segnalazioni arrivano da settimane di fiuti abbandonati, furti, l'area parcheggio accanto all'ingresso del centro commerciale che deve fare i conti con presenze non certo accoglienti e il più delle volte moleste nei confronti di chi parcheggia l'auto. Una situazione che ha costretto addirittura a potenziare la vigilanza interna ed esterna al centro Palladio aumentando le ore di servizio e concentrando l'attività in alcune precise fasce orarie. E di certo raccontare con le immagini quello che accade non è facile dato che appena una telecamera si avvicina al luogo scelto come bivacco l'accoglienza non è delle migliori. Insomma, dopo l'ordinanza anti-bivacchi voluta dal sindaco Achille Variati che ha istituito la zona rossa nell'area ovest della città ora si assiste allo spostamento a destra dei camper con tutto ciò che questo ne consegue. Pasqua blindata anche a Bassano reparti specializzati della polizia in città per vigilare su chiese e luoghi turistici falso allarme in centro cartello bomba Isis su un'auto arrivano gli agenti col metal detector ma era solo uno scherzo. I reparti prevenzione crimine della polizia e l'unità operativa di pronto intervento di Padova con mezzo blindato gli specialisti anti-sabotaggio con unità cinofile arrivati da Milano gli artificieri di Venezia rinforzi da tutto il nord Italia questo pomeriggio quasi una trentina di agenti in più per garantire una Pasqua sicura a Bassano meta turistica su cui la questura ha elevato il livello d'allerta. Tutte le location che attraggono turisti sono particolarmente attenzionati quindi per quanto riguarda questo comprensorio pedemontano la città di Bassano del Grappa con il suo museo e i luoghi di culto e ovviamente anche il ponte degli alpini chiese, ospedale, stazione ferroviaria tra i luoghi sensibili dove è stata intensificata la vigilanza ma anche i parcheggi in quello lungo via De Gasperi giovedì sull'unotto di una Mercedes classe A è spuntato un cartoncino con la scritta pennarello bomba Isis se ne è accorta una volante del commissariato subito raggiunta dai colleghi dell'anticrimine e dell'ufficio ordine e sicurezza pubblica attenti pure a evitare il panico tra i passanti siamo qui per un'auto posteggiata male hanno raccontato mentre eseguivano tutti i controlli con il metal detector fino ad avere la certezza che si trattasse solo di uno scherzo di pessimo gusto è una Pasqua sicuramente con un'implementazione dei servizi di prevenzione generale e repressione dei reati che garantiamo essere appunto rafforzati ma con molta discrezione senza avere un'invasività per i cittadini tutti l'esercito statunitense testa l'aeroporto di Tiene per una possibile esercitazione militare alla Ferrarin prove di atterraggio di due super elicotteri Chinook per il trasporto di truppe due elicotteri CH-47 per il trasporto di truppe militari americani l'altra mattina hanno di fatto occupato l'aeroporto Ferrarin di Tiene una visita a quella di giovedì dell'esercito USA con tanto di consigliere politico accompagnato da una decina di militari per valutare una possibile esercitazione dell'esercito statunitense che potrebbe essere organizzata nei prossimi mesi un atterraggio che ha di certo richiamato l'attenzione dei residenti della frazione di Roddampia storditi dal rumore dei potenti rotori dei due maxi elicotteri fino ad oggi gli USA Army non si era mai interessato alle Ferrarine ma di fatto questo punto rappresenta uno spazio vitale a due passi dalle basi per eventuali manovre anche per le missioni del trasporto truppe un'esercitazione che si è confermato peraltro arriva in una congiuntura internazionale delicatissima con la tensione tra Corea del Nord e Stati Uniti che aumenta di giorno in giorno Nel weekend di Pasqua saranno numerose le iniziative che animeranno la città musei aperti mercatini mostra dei fiori ma il meteo potrebbe scoraggiare il picnic all'aperto ad Asiago potrebbe anche arrivare la neve arte, picnic e giochi cena di che stuzzicare i palati più esigenti Pasqua e Pasquetta si prospetta come un weekend ricco di iniziative in città anche perché le previsioni meteo consigliano di restare a casa le gite fuori porta potrebbero essere particolarmente bagnate da temporali improvvisi chi andrà in montagna dovrà essere munito di umbrello di impermeabile mentre chi andrà verso le nostre spiagge potrà anche sfoggiare gli occhiali da sole per chi resta in città dunque molte nubi ma il rischio di pioggia è contenuto gli appassionati di architettura storia e pittura potranno sfamarsi di bellezza nei monumenti simbolo della città teatro olimpico pinacoteca di palazzo Chiericati museo del risorgimento e palladium museum aperti come pure la chiesa di Santa Corona con i suoi inestimabili gioielli laboratori poi per i più piccoli e in piazza delle erbe il déjeuner sull'erba riservato ai bambini con carta e mosaico in tema pasquale pomeriggio dobbiamo stare un po' attenti perché ci sarà dell'instabilità sia a Pasqua che a Pasquetta dunque bancarelle dalla Francia al mercatino delle Pulci la mostra dei fiori i contadini e gli ambulanti che appartengono a quei 7 milioni di italiani al lavoro anche il giorno di Pasqua pioggia permettendo si potrà brindare alla terrazza della Basilica per i turisti diretti ad Asiago meglio invece munirsi di sciarpa e guanti tra lunedì di Pasquetta e martedì soprattutto il pomeriggio e la sera in caso di rovesci e temporali particolarmente forti la neve potrebbe anche cadere fino ad Asiago infine dopo Pasqua e Pasquetta il consiglio dell'esperto è di non riporre in armadio il piumino perché tornerà l'inverno verso giovedì venerdì le temperature potranno tornare a sfiorare gli zero gradi in aperta campagna quindi attenzione agli agricoltori attenzione anche alle nostre piante da frutto che sono avanti di un mese molti vicentini non rinunciano all'agnello pasquale la tradizione resiste ma grado di tanti appelli a non consumare quel tipo di carne macelleria letteralmente prese d'assalto quest'oggi in vista del pranzo di Pasqua e anche su molte tavole dei vicentini nonostante le appelli lanciati da ministri altri personaggi famosi del mondo della politica nazionale non mancheranno le carni di agnello e di capretto la cui vendita non solo non è in calo ma è data addirittura in aumento nonostante sia stata demonizzata dai media dai network nazionali dico che abbiamo venduto più agnello e capretto quest'anno degli ultimi 5 anni come tutti gli altri anni insomma anzi stiamo un po' aumentando e la gente si rende conto che è carne che ha basso contenuto del colesterolo che fa bene meglio di tante altre cose sono sempre sulla media insomma tutti quelli che hanno mangiato sempre agnello e capretto vogliamo ancora mangiare agnello e capretto insomma una tradizione dunque che continua eh sì certamente e lo fa mia figlia e mio genero mio papà che aveva aveva anche la stalla aveva anche gli agnelli e mangiavo a Pasqua era una tradizione che non vado non vado a sentire Berlusconi e compagni perché mi fanno solo che da ridere senza vergogna anche con piacere agnello quel che sarà insomma nella tradizione ma c'è anche chi non è d'accordo no no non ho niente che apretto il mio agnello ma anche perché ci fa pena no ma per carità e fa pena sapere che si mangia carne sapere come chi uccide gli agnelli no no pure bestiole no no li voglio bene io le bestie ed è una tradizione l'augurio e il saluto del Vescovo di Vicenza agli ascoltatori di TVA notizie lo vediamo insieme desidero esprimere il mio più fervido augurio a tutti voi telespettatori di TVA entrando nelle vostre case desidero anche farmi vicino e portare un augurio che sia un augurio di speranza un augurio di fiducia di cui abbiamo bisogno ma che è fondato su un evento che per i cristiani è l'evento decisivo della storia dell'umanità cioè l'evento della risurrezione del Signore Gesù che sia quindi una Pasqua di speranza una Pasqua di fiducia soprattutto se ci sono persone che stanno attraversando momenti di difficoltà momenti anche di disperazione in modo particolare mi rivolgo a loro ma a tutte le famiglie desidero quasi entrare nella vostra famiglia e portarvi questo augurio sincero augurio di una Santa Pasqua e dopo la Santa Pasqua il giorno di Pasquetta arriva per il Vicenza un'altra finale per la permanenza in Serie B almenti la Pro Vercelli il mister Bisoli chiama i suoi a compiere un passo in avanti capire i pericoli interpretare al meglio la partita giocare con sacrificio la giusta cattiveria in vista della fondamentale gara salvezza e lunedì almenti contro il Pro Vercelli mister Bisoli chiede ai suoi dare tutto quello che è rimasto loro in corpo in questo momento ho bisogno di gente che tiri fuori il massimo dal proprio io per poi convertirlo in tutto insieme alla squadra contro i Piemontesi sarà per l'anima volta un Vicenza in piena emergenza il problema di questa squadra qui è che non riusciamo a allenarci con continuità con i 16-17 giocatori perché due si fermano un giorno tre un altro e quindi questo leva un po' di tranquillità e di sicurezza la propria squadra però in questo momento non c'è da recriminare c'è da andare a testa bassa su ogni partita a cercare di vincere il più possibile quella di Pasquetta non sarà l'ultima spiaggia è vero ma una partita comunque vitale per la permanenza in Serie B bisogna interpretare bene le gare è chiaro che due o tre dobbiamo vincere per cercare di arrivare a quella situazione che abbiamo detto però ci sono dei momenti non è detto che si deve vincere con il Provercelli non si possa vincere con il Benevento o con il Novara o con lo stesso Verona non lo sappiamo la partita va giocata va giocata con un'estrema intelligenza con grande equilibrio e qui mettici quel che la cattiveria di Pistico più di cattiveria come abbiamo messo a Latina domani è festa c'è un po' più di tempo per rilassarsi e magari sfogliare il giornale perché andare a prendere il giornale di Vicenza domani mattina ce lo spiega il caporedattore del giornale di Vicenza Marino Smiderle l'edizione di Pasqua apre con un tragico bilancio dei femminicidi che hanno visto come vittime le donne vicentine 5 in 5 anni con l'ultima uccisa a Camisano e a proposito del caso di Camisano ieri l'autore dell'omicidio si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha chiesto notizie della figlia emerge uno struggente particolare dopo la morte dell'operaio di 25 anni a Schio schiacciato da una lastra di ghisa sarebbe diventato padre per la seconda volta tra qualche mese ricordate i 23 cuccioli di razza sequestrati dalla polizia a febbraio a bordo di un SUV ora l'EMPA annuncia che sono aperte le selezioni per l'adozione delle bestiole fare la spesa a Pasquetta si può ma non è ancora accettato dai sindacati che invitano i clienti ad astenersi per l'ASCOM serve invece più regolamentazione infine spazio alla presentazione della partita fondamentale che il Vicenza giocherà lunedì contro la Provercelli vi aspettiamo come sempre domani in edicola e auguri di buona Pasqua a nome della redazione del giornale di Vicenza ne abbiamo già parlato nel corso del notiziario andiamo a vedere nello specifico il tempo che ci aspetta per i prossimi giorni Emporio Cattani è la pelletteria e valigeria con assortimento dei migliori marchi qualità e convenienza Emporio Cattani a Creazzo e online sul sito emporiocattani.it ben ritrovati ci attende una Pasqua dal tempo inizialmente discreto poi variabile soprattutto sulle prealpi la giornata inizierà quindi con cielo parzialmente nuvoloso schiarite anche ampie sulle pianure e possibilità di qualche foschia nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità sugli lievi assieme a qualche rovescio o temporale e col passare delle ore qualche fenomeno potrebbe raggiungere la fascia pedemontana e l'alta pianura questo fino alla sera compresa temperature stazionari ma con deciso calo in serata e con questo io vi saluto vi ringrazio con l'augurio naturalmente di una buona Pasqua arrivederci Emporio Cattani è la pelletteria e valigeria con assortimento dei migliori marchi qualità e convenienza Emporio Cattani a Creazzo e online sul sito emporiocattani.it Anche in questi giorni di festa vi ricordo di segnalare i problemi che secondo voi affliggono la nostra città e la provincia i numeri che vedete in sovraimpressione e alla nostra mail segnala il problema chiocciola tvavicenza punto it aver condotto questo notiziario mi consente ed è un piacere la possibilità di augurarvi una buona Pasqua a nome mio e di tutta tvavicenza vi lascio con segnala il problema arrivederci tutti d'accordo con deposito chiaro di Banca Popolare di Vicenza semplice e chiaro conveniente scoprilo in tutte le filiali e su popolarevicenza punto it di scoprilo in tutte le filiali e su Grazie a tutti.